Ma entriamo immediatamente nel gorgo, cominciamo a lanciare le prime frecce estraendole dalla nostra faretra. Presidente della categoria del reale, il professor Pier Giorgio Di Freddi. Allora professore, cominciamo a lanciare qualche strale a favore della categoria del reale affinché il pubblico si appassioni e possa prescegliere voi come categoria ideale del nuovo millennio. Sì, anzitutto bisogna dire che noi non siamo contrari al virtuale, all'uso del virtuale, che è una cosa utilissima e buonissima. Siamo contrari all'abuso che in genere ne fanno quelle persone là, non naturalmente, e addirittura ci sono delle cifre che si possono dare. Sembra che oggi le persone si colleghino col cellulare dalle due alle trecento volte al giorno, il che significa ogni due o tre minuti in media. Psicopatia. Eh beh, sembra che ci si colleghi ormai in vari strumenti, dalle cinque alle dieci ore stiamo attaccati ai nostri computer, ai tablet, al telefono e così via. Quindi perché il reale sarebbe migliore? Beh, perché è l'unica cosa che esiste veramente, no? Detto in televisione.